A Castelvolturno, alla foce dell'Agnena, improvvisamente una chiazza nera. Cosa è successo? Ce lo spiega Gianocchetti. Le immagini paradisiache di qualche giorno fa del mare di Castelvolturno, fuscate dalla chiazza ormai diventata famosa dell'Agnena, e noi siamo a Marcianise e la ragione ce la spiega l'esperto. Questo è il Lagno Vecchio, uno degli affluenti del canale dei Reggi Lagna, che dovrebbe essere un canale di bonifica e come questo ce ne sono tante altre centinaia su tutto il bacino. Per me sono fogne a cielo aperto, non sono più canali di bonifica, perché il canale di bonifica dovrebbe essere tenuto perfettamente pulito, dovrebbe essere asciutto nei periodi quando non piove, invece così non è. Che fare? Se è una fogna a cielo aperto le soluzioni ci sono, perché ad ogni problema c'è una soluzione, quindi una delle soluzioni più importanti si potrebbero fare subito è la fitodepurazione. La fitodepurazione significa dedicare vaste aree, praticamente scavando solamente un metro, un metro e mezzo, e metterci delle piante che praticamente fanno un'autodepurazione. È tutto naturale e dai costi bassissimi.